Ora, inizia il periodo di Natale, come ogni incubo per i genitori, i bambini cosa vogliono? I giocattoli! Ammazzata! Io voglio questo per Natale! Allora, per Natale la Viola vorrebbe questo, quanto costa? 35,90 euro, apposto! Poi, ci sono gli unicorni, poi la Viola vorrebbe... Poi, con le cose riciclate, bravissima, bisogna comprare sempre le cose e portare avanti le cose riciclate. Qua c'è un super unicorno. Guarda, questo è quello che parla, è schiaccia, 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 vediamo. Schiaccia, Viola, schiaccia tu, Viola. Mamma, cosa ne pensi di questo casinon? Mi viene la morte e arriva il Natale. Siamo su YouTube. No! Hai fatto di vedi qua? Sì, seguiamo Viola, va? Ragazzi, io vi dico solamente che la tredicesima qua non basta e bisogna risparmiare. Vediamo cosa vuole più Viola. Viola, saluti Tefan. Ragazzi, 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 ragazzi. Qua c'è un mondo di giochi. No! Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Vabbè, io mi prendo la gioca per giocare e fai da te. Dove mi porti, Viola? Sì, vieni qui. Viola, sei un casino, Viola. Ma dove avevo visto la cassiera della Barbie? La cassiera della Barbie? Sì. Tu devi fare la cassiera. Sì. Viola, dove mi stai portando? No! La cassiera devi fare. Della Barbie? Sì, questa. Ammazza. Vabbè, abbiamo capito che qua la tredicesima non ci basta. Comunque, ragazzi, giusto per capirci, in questo periodo conviene anticipare regali con i vari sconti che ci sono. Gliola saluta a tutti. Gliola saluta. Gliola saluta. Gliola saluta, quindi è un giro del loco.